Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, ci troviamo in via Francesco Baracca, salutiamo anche Beppe Marconi che questa sera, come a volte capita, si prende qualche giorno di vacanza, ma tornerà con noi nelle prossime giornate, ci avviciniamo al Natale. Siamo qua in via Baracca perché ci è stato segnalato da alcune persone che vengono qui a lavorare, ci sono molte aziende, non solo, in questa strada è la strada che conduce all'aeroporto di Arezzo ed è una strada che però è messa piuttosto male. Guardate ad esempio questa buca che diciamo è quella più eclatante, guardate questa buca, è veramente profonda e pare che da tempo qui nessuno intervenga, insomma è un peccato che una strada così trafficata e frequentata di lavoratori sia ridotta in questo modo. Vedete che proprio ci si va giù, praticamente è una fossa e vedete che insomma, che attenzione anche al nostro Luca che vuole finire sopra la buca con le auto che arrivano, dicevo è una buca che da tempo si trova in queste condizioni, quindi ovviamente crea problemi insomma anche alle auto che passano da qua e escono fuori tutti i sassi ed è veramente profonda perché vedete che proprio è una bella 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 buca quindi insomma e non è l'unico caso è che qui in via Baracca perché la strada è veramente messa male, marcia a piede messo male, qui insomma la sensazione che sono diversi anni che non si intervenga perché basta dare così un'occhiata all'orizzonte, vedete che la strada è sconnessa in diversi punti, in una zona insomma industriale dove ci sono delle aziende, ecco è davvero un qualcosa che non dovrebbe accadere. Andiamo a vedere altri punti di questa strada, continuando in via Baracca vedete che la strada è tutta sconnessa, qui c'è un'altra buchettina abbastanza ridotta ma insomma che se uno ci finisce con la ruota può creare i suoi problemi. E andando avanti vedete anche il marciapiede è tutto sconnesso, anche qui altro punto dove il manto stradale ha ceduto, anche qui. E poi qua addirittura andando verso questa strada che non ha sbocco troviamo dei punti proprio dove la strada non c'è neanche più, dove vedete che c'è fango, altre buche che ci sono. Vedete insomma che purtroppo è davvero messa notevolmente male, guardate qui praticamente la strada è venuta via, rimane fango e poco più, ci sono dei punti proprio in cui la strada è completamente sparita. E insomma non crediamo che, ora è vero che siamo in tempi dove magari non fa neanche più notizia che le strade non siano mantenute o comunque ci sono altre zone di Arezzo dove ci sono buche, però insomma fa specie che in questa zona così densamente frequentata da un punto di vista lavorativo e con il fatto che questa problematica sia stata segnalata è un peccato e soprattutto ci chiediamo come mai ancora nessuno sia intervenuto perché a giudicare dalla tenuta di questo asfalto è un problema certamente non recente, è un problema che va avanti da molto tempo e allora non possiamo che segnalare al comune di Arezzo e alla manutenzione di fare un salto qui in via Baracca e è il caso insomma di riasfaltare questa strada per il decoro di chi qui ha aperto le sue aziende, di chi le frequenta che siano clienti o lavoratori soprattutto e di chi anche va all'aeroporto perché come ben sapete andando avanti dopo questo passaggio ferroviario c'è appunto l'aeroporto Molimbianco di Arezzo. Allora forza ufficio manutenzione, verremo anche da vicino a segnalarvi questo problema però intanto è il caso che interveniate. Da via Francesco Baracca noi vi salutiamo, ci rivediamo domani con la nostra SOS Arezzo TV, segnalate, redazione chiocciola arezzotv.net ci arrivano segnalazioni anche dalla zona di Via Tarlati dove eravamo già stati e dove torneremo. Per fortuna ogni tanto dopo i nostri SOS qualcosa si muove come vi abbiamo già documentato in altre occasioni quindi alcuni problemi, alcune questioni sono state risolte e vediamo, speriamo presto di darvi la buona notizia anche qui da via Baracca. Buona serata.